Ciao! Come si dice vantarsi, darsi delle aree in inglese, ma si dice to show off. To show off. In realtà non è l'unica maniera per dirlo, però è quella forse più usata. Show off. Facciamo un paio di esempi. He only bought that sports car to show off and to prove that he can afford one. Ha solamente comprato quella macchina sportiva per farsi vedere, per darsi delle aree e per provare che he can afford one, che può permettersene una. Che male di schiena però! Che male! She's always showing off to her classmates. Quindi costantemente si vanta, si dà delle aree con i suoi compagni di classe. Attenzione, show off, oltre a usarlo come verbo, possiamo usarlo come sostantivo. Quindi he's such a show off. Vuol dire è talmente un esibizionista. È talmente un esibizionista, ok? Quindi he's such a show off, in quel caso è un sostantivo, e vuol dire esibizionista. Qualcuno che si fa tanto vedere. Perché questo si alza a metà e basta? È talmente un esibizionista. Perché questo si alza a metà voi.